Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano codei a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Possibili disagi per una manifestazione in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. In A11 codei tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova in uscita provenendo da Genova. Sulla FIPILI verso Firenze codei a tratti tra Pisa Nord-Est e Navacchio e tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Codei alle uscite di Navacchio e di Cacina provenendo da Pisa. Due chilometri di coda per un incidente al chilometro 4 tra Firenze e Viadotto del Pontellindiano e la Strassigna in direzione Mare. Codei alle uscite di la Strassigna, San Mignato e Santa Croce sull'Arno tutte provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!